DAI RAGAZZI! SII RAGAZZI! SII! PRO PATRIA ZERO PADOVA 3! 3 ragazzi! 3 gol in trasferta! Non ci voglio credere! Svegliatemi! Non è vero! Non è vero! Prima di questa partita eravamo il terz'ultimo attacco peggiore del torneo per il gol in trasferta e oggi ne abbiamo fatti 3 al Carlo Speroni di Bustarsizio Aurora Propatria Padova 0-3! Bene così! Bene così da continuare così! Allora intanto carissimi tifosi della Propatria che ogni volta che cadeva uno dei nostri Eh alzati buffone! Paglioccio! Vabbè ci sta! Però intanto secondo me ci stava l'espulsione di oddio non mi ricordo il nome ragazzi Saporetti se non sbaglio perché comunque in chiara occasione da gol c'era Liguori lì praticamente quasi al tiro Oggi tra l'altro peccato Liguori non ha segnato ma siamo contenti lo stesso Basta vincere! Basta vincere! Dobbiamo scalare la classifica più possibile E i tre punti erano d'obbligo e ci servivano come il pane Segniamo lo 0-1 con Valentini di testa! Valentini di testa! Quindi Propatria sotto di un uomo e sotto di un gol a fine primo tempo Ed era fondamentale che questo accadesse per la nostra mentalità Dovevamo essere in vantaggio perché se no conoscendoci sapevamo che dopo ci saremmo spenti E la cosa non andava bene Con Torrente si vede un gioco migliore Dobbiamo continuare piano piano C'erano tante assenze E comunque ce l'abbiamo fatta Una cosa che non cambia mai è De Marchi Che minimo un gol a partita se lo deve mangiare Vero Michael? Vero? Eh! Se no non sei soddisfatto Poi è uscito, è entrato Ceravolo Che sembrava più un giocatore da beach volley Perché ha toccato più volte lui il pallone con le mani Che Donnarumma quasi Segna poi lo 0-2 Jelenic Bella azione di ripartenza E siamo arrivati con Jelenic davanti al portiere E chiude? Chi chiude? Se non Igor Radrezza e Torrente Qua un piccolo punto per te ti tiro un po' le orecchie Devi farlo giocare Igor Radrezza Devi farlo giocare Il nostro numero 10 deve giocare No che eh ma non lo mettiamo Forse se ne va No! No! Deve giocare, deve giocare con noi Igor Radrezza Lui la sente la piazza La sente la maglia Sa cosa vuol dire indossarla E la indossava in un tempo dove andavamo in Serie B Dove c'era una partita più importante Lui deve rimanere Tra poco mi preoccupo perché quasi si ammazza per arrampicarsi sulla curva Per salutare i tifosi arrivati a Bustosizio Però sono veramente veramente contento Una vittoria netta così Non la vediamo da tantissimo tempo Tra l'altro all'andata Se non mi sbaglio più o meno Doveva essere fin da così 3-0 forse anche all'andata Ora non ricordo Sicuramente ho fatto il video Mi ricordo una doppietta di Liguori E forse gol di Vazic Può essere Potrebbe essere Però potrei sbagliarmi Ditemelo voi nei commenti Comunque soddisfatto dei ragazzi Per una volta posso passare un weekend A dire sì Il Padova ha vinto E ha meritato di vincere Forza Padova Mi piace Commento Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Seguitemi su tutti i social E noi ci vediamo a un prossimo video